dell'amico e collega Giuseppe Langella che ci parlerà di manzoni o della letizia spirituale Roncalli Rettore dei Promessi Sposi. Grazie. Consentitemi un fuori programma. Mi ha fatto molto piacere che il nostro arcivescovo abbia ricordato stamattina il quinto evangelio di Mario Pomiglio perché è uno dei più grandi romanzi europei del Novecento che tutti dovrebbero avere nella propria biblioteca e custodire se possibile nella propria anima. Uscito nel 1975 per Rusconi, ci sono edizioni più recenti, insomma è uno di quei libri che vanno letti e lo dico soprattutto ai giovani che sono presenti e che sono ancora nell'età in cui un libro ti può cambiare la vita. Faccio questo appello con assoluta convinzione. Qualcuno magari che conosce un po' come dire la mia biografia intellettuale potrà dire per forza tu sei il presidente del Comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Pomiglio, per forza che dici queste cose, però vorrei che non fosse confusa la causa con l'effetto. Io non dico questo perché sono presidente del Comitato Pomiglio, sono diventato accettato di assumere questo compito perché stimo Pomiglio degno di un rilancio in grande stile. E quindi l'ho fatto privatamente con Monsignor Delpini, ma volevo condividere con voi insomma ecco la gioia, la letizia spirituale che mi ha dato ascoltarlo. E veniamo a Manzoni. Manzoni è stato per Angelo Giuseppe Roncalli un riferimento importante. Per l'opera letteraria e apologetica di questo insigne scrittore, Roncalli nutrì sempre un'ammirazione speciale. E i promessi sposi, in particolare, furono forse subito dopo la Sacra Scrittura e la biblioteca devota tipica di un ecclesiastico della sua generazione, insieme alla commedia dantesca, il suo Livro de Chevet, cui spesso e volentieri si affidò per ristorare e nutrire lo spirito. Anzi, Luigi Bresciani, al seguito di Monsignor Roncalli, delegato apostolico in Bulgaria, ci ha lasciato in proposito una nitida testimonianza, affermando addirittura che il romanzo di Manzoni, dopo il breviario, era la sua lettura preferita. E tra una lettera personale e una relazione da inviare al Vaticano, la sera, quando appunto si poteva concedere una pausa, lo faceva leggendo ad alta voce un capitolo dei Promessi Sposi. E confermano questa edificante consuetudine delle letture serali dei Promessi Sposi le agende in cui, almeno dagli anni della sua missione appunto di delegato apostolico in Bulgaria, Roncalli venne dettagliatamente annotando le opere e i giorni della sua vita. Da esse traspare la sua predilezione per i Promessi Sposi, letti e riletti a più riprese, integralmente o tornando su singoli episodi, da solo o in compagnia, sempre con straordinario diletto e ammaestramento morale. Nelle lettere ai familiari non è raro trovare giudizi encomiastici sul conto dei Promessi Sposi. Ne ho spigolata qualcuna. Scrivendo ad esempio ai cugini Giovanni e Candida, nel luglio del 1941, cita i Promessi Sposi come uno dei più bei libri del mondo, mentre al nipote Enrico Marchesi ribadisce qualche anno dopo che il romanzo manzoniano resta sempre uno dei più preziosi libri dell'umanità. E perché i Promessi Sposi esercitassero tanto fascino su Roncalli, uomo di Dio e pastore della Chiesa, è lui stesso a chiarirlo nei frequenti giudizi che dissemina nelle agende e perfino nelle omelie, come quella che tenne in San Marco a Venezia per il Tedeum del 31 dicembre 1953, dove celebrava i Promessi Sposi come il più grande libro apprestato nell'ultimo secolo alla saggezza degli italiani. Citando alla lettera, a supporto del suo ammaestramento teologico, il famoso sugo della storia che chiude il romanzo. A fare dei Promessi Sposi un'opera così straordinaria non era soltanto la felicità di espressione, ma anche non meno la sostanza di insegnamento che Manzoni aveva saputo trasfondervi. La lettura del romanzo manzoniano suscita immancabilmente nel nostro presule commossa partecipazione e letizia spirituale. In un appunto del 5 ottobre 1939, Roncalli afferma addirittura che per la formazione dello spirito i Promessi Sposi valgono certamente un buon trattato di ascetica. Manzoni rappresenta per lui un teologo di primordine e un acuto moralista, oltre che, come è ovvio, un sommo scrittore. Questo spiega la sua predilezione per quegli episodi del romanzo in cui è distintamente ravvisabile la filigrana religiosa. Della Dio Monti, che suggella il capitolo ottavo del romanzo, aprendo con la fuga dei due giovani protagonisti il tempo delle loro drammatiche traversie, a Roncalli non interessa tanto il pur mirabile squarcio lirico paesaggistico del notturno sul lago, quanto la conclusione parenetica che ridesta in quei poveri tapini la fiducia nella provvidenza. Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Qui è il focus dell'attenzione. Così appunto Manzoni e Monsignor Roncalli richiama queste parole di consolazione e di speranza in due lettere ai familiari davanti alla prova tremenda del secondo conflitto mondiale, esortando ad avere coraggio e a mantenersi quieti e tranquilli. Ma anche a guerra finita, più di una volta, Monsignor Roncalli avrebbe accompagnato alle sue parole di conforto l'autorevole conferma della citazione manzoniana, come nella lettera indirizzata il 7 maggio 1953 da Venezia al nipote Battista, che ne aveva seguito le orme entrando in seminario. Ed era diventato, non senza qualche difficoltà, suddiacono, benedicendo con lui l'amabile provvidenza che gli aveva permesso di gustare tutta la verità delle rassicurazioni manzoniane. Quanto al tema cristiano del perdono, Manzoni gli aveva dato come noto grande rilievo nel romanzo, imbastendo in particolare intorno ad esso, con cura strutturale delle simmetrie narrative, il capitolo quarto e il quartultimo. E fra Cristoforo poi, nell'accomiatarsi dai due giovani protagonisti al termine del capitolo trentaseiesimo, lasciando loro in consegna la reliquia del pane del perdono chiesto per carità e in segno di riconciliazione al fratello del gentiluomo ucciso in duello, aveva fatto questa accorata raccomandazione. Serbatelo, fatelo vedere ai vostri figliuoli. Verranno in un tristo mondo e in tristi tempi, in mezzo a superbi e a provocatori. Dite loro che perdonino sempre, sempre, tutto, tutto. È a queste parole, senza ombra di dubbio, che Monsignor Roncalli si riferisce accennando alla predicazione della legge del perdono che il frate Cappuccino tiene ai due promessi in coda al breve discorso nuziale. E non è difficile indovinare quale struggente risonanza esse potessero avere in piena guerra, l'appunto infatti del 30 ottobre 1942, nell'animo del delegato apostolico. Comprensibilmente poi, ad attirare l'attenzione di Roncalli, sono gli episodi del romanzo in cui guadagnano la ribalta i personaggi del mondo ecclesiastico, a cominciare dal cardinal Borromeo. Assunto, più ancora dello stesso fra Cristoforo, a modello di perfezione pastorale, in quanto testimone di Cristo e successore degli apostoli nell'ordine gerarchico della Chiesa. Non a caso, Monsignor Roncalli medita sul prolungato colloquio del cardinal Borromeo con Don Abbondio, che nei promessi sposi si protrae a cavallo tra i capitoli venticinquesimo e ventiseiesimo, incentrato precisamente sui doveri e sulle implicazioni del ministero sacerdotale. E ancora, a un passo ormai dall'investitura papale, tornerà con Monsignor Capovilla, dopo aver riletto il viaggio di Don Abbondio al castello, sul suo colloquio col cardinale, nel dì della visita alla sua parrocchia. Perfino all'episodio cruciale della conversione dell'innominato, egli guarda più che altro dal punto di vista del pastore che aiuta il ritorno a Dio della pecorella sbarrita, come conferma un passaggio dell'allocuzione che tiene in Santa Sabina, già sommo pontefice, il 16 febbraio 1961, per l'inizio delle processioni penitenziali di quaresima. Talvolta al sacerdote accade di accogliere il grido desolato di un'anima che implora sollievo perché non sente più la fede, proprio come l'innominato che con l'inferno nel cuore aveva chiesto al cardinale dove fosse questo Dio che lui non riusciva né a vedere né a sentire. Per vincere lo smarrimento di tante persone che non diversamente dall'innominato erano andate in crisi e vivevano nell'inquietudine o magari addirittura nella disperazione, Papa Giovanni riporta integralmente nel suo discorso la risposta illuminata con cui il buon Federigo, fervente e profondo conoscitore d'anime, aveva sollevato dall'angoscia il vecchio e prostrato appaltatore di delitti. E chi più di voi là vicino non ve lo sentite in cuore che voprime, che vagita, che non vi lascia stare e nello stesso tempo vattira, vi fa presentire una speranza di quiete, di consolazione, una consolazione che sarà piena, immensa, subito che voi lo riconosciate, lo confessiate, lo imploriate? Ma è un'altra, la frase tra quelle che Manzoni attribuisce al Cardinal Borromeo, rimasta incisa a lettere di fuoco nella coscienza di Roncalli. Ripetuta in innumerevoli frangenti e citata spesso a memoria, magari in maniera un po' approssimativa, essa risuona come un mantra ogni volta che il chierico di sotto il monte guarda in se stesso. Nel capitolo ventiseiesimo dei Promessi Sposi, il porporato manzoniano, respingendo con sincero turbamento le lodi, peraltro tutt'altro che ingiustificate, tributategli da don Abbondio, aveva affermato di sé con perfetta umiltà, Dio conosce i miei mancamenti e quello che ne conosco anch'io basta a confondermi. Roncalli fa sue queste parole richiamandole ad esempio negli esercizi spirituali che compie da solo nel 1940, meditando sul Salmo del Miserere. Con questo Salmo, evocato a più riprese, le parole pronunciate dal Cardinal Borromeo costituiscono per Roncalli la più efficace esortazione a non montare in superbia, specie in occasione di nomine e incarichi di gravosa e pubblica responsabilità istituzionale. A Monsignor Andrea Spada, direttore dell'Eco di Bergamo, scrive poche settimane dopo la sua elezione a successore di Pietro, il 16 novembre 1958, resto tranquillo sulle parole del Cardinal Federico. Non ho chiesto ad alcuno un elogio che mi fa tremare e quel poco che so di me stesso basta alla mia consolazione. Ma la citazione più sorprendente e clamorosa della frase in questione la troviamo addirittura tradotta letteralmente in latino nel breve discorso di accettazione dell'elezione papale. Que scio de mea paupertate et vilitate sufficiente ad mea confusione. Stupendo. Scusate, io devo ringraziare per tutte queste schede il nostro Alessandro Persico, perché mai ricerca è stata più agevolata di quella che ho potuto compiere io sul pacco di fotocopie che mi ha messo a disposizione con tutte le fonti che potevano servirmi. E questa davvero è stata per me una chicca, una vera ghiottoneria. Ma torniamo a fare le persone serie. Peraltro tutto del Borromeo appare a Roncalli esempio virtuoso da imitare. Questa grande ammirazione per l'alto prelato ambrosiano, introdotto nei promessi sposi come personaggio romanzesco, deve essere nata molto presto in Angelo Roncalli, forse già negli anni della sua formazione. Quando gli fu chiesto di tenere la prolusione per l'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico 1907-1908 nel seminario di Bergamo, ricordando la figura e l'opera del cardinale Cesare Baronio nel terzo centenario della morte, nel corposo panegirico che egli scrisse si rifece in tutta evidenza, fatta salva ovviamente la verità storico-biografica, agli aspetti e perfino in certa misura allo schema del ritratto manzoniano di Federico Borromeo che occupa buona parte del capitolo ventiduesimo dei Promessi Sposi. È questa che io sappia, almeno sulla base dei documenti editi, la più antica attestazione del manzonismo di Roncalli. I rimandi espliciti alla fonte romanzesca sono tre e i primi due collocati oltretutto quasi in apertura, inequivocabili spie quindi del ricalco eseguito da Don Angelo sulla filigrana del ritratto del cardinal Borromeo. D'altronde chi volesse eseguire una più approfondita analisi intertestuale dei due brani scoprirebbe parecchie altre affinità tutte rubricabili come abiti, come abili trapianti lessicali effettuati, come dire, da un discepolo che dipinge tenendo sott'occhio il ritratto del maestro. Don Angelo riprende infatti dal modello manzoniano certi aggettivi ad alto coefficiente emblematico come composto, maestoso, grave, virginale, che conferiscono ieraticità alle due figure di ecclesiastici, istillando nel lettore un'ammirata riverenza. E tornano anche nel ritratto del baronio opportunamente adattate la fronte serena e pensierosa e la bellezza senile del Borromeo. Dell'uno come dell'altro viene posto in risalto il portento di un'operosità fenomenale, ma quello che più sorprende in entrambi è l'essere riusciti fra le mille cure politiche e pastorali del loro ministero a trovare il tempo per dedicarsi allo studio e lasciarci una quantità di scritti. Manzoni non manca di sottolineare del Cardinal Federigo un'altra singolarità di quella bella vita, che piena come fu d'attività, di governo, di funzioni, di insegnamento, d'udienze, di visite diocesane, di viaggi, di contrasti, non solo lo studio cebbe una parte, ma ce nebbe tanta che per un letterato di professione sarebbe bastato. Circa cento sono l'opere che rimangono di lui, tra grandi e piccole, tra latine e italiane, tra stampate e manoscritte che si servano nella biblioteca da lui fondata, trattati di morale, orazioni, dissertazioni di storia, d'antichità sacra e profana, di letteratura, d'arti e d'altro. Mentre al Cardinal Baronio si deve, oltre agli altri scritti molti e gravi che uscirono dalla sua penna velocissima, sopra gli argomenti più disparati, un'opera monumentale come gli annali ecclesiastici, la cui compilazione poteva ben richiedere la vita di un uomo e cui infatti egli attese per trent'anni per trionfare sui nemici della Chiesa, sobbarcandosi fra l'altro a un immane lavoro di consultazione di documenti. E non finisce qui. Comune ai due prelati è anche l'umiltà e il rifiuto di titoli e onori. Tanto il Baronio quanto il Borromeo vennero proposti da una certa fazione dei cardinali riuniti in conclave al soglio di Pietro, ma respinsero fermamente questa candidatura. Anzi, cercarono entrambi di scansare anche altre cariche, piegandosi solo davanti all'imposizione del Pontevice. Altro punto di incrocio tra i due ritratti paralleli sono le opere di carità. Manzoni riserva a questo aspetto del cardinal Borromeo un intero paragrafo, sottolineando che Federigo teneva l'elemosina propriamente detta per un dovere principalissimo e che la sua vita fu un continuo profondere ai poveri. Don Angelo, da parte sua, rincara la dose sul conto della carità del Baronio verso i diseredati dalla fortuna, i sofferenti di ogni genere, ricordando che essa era la sua gioia, il suo sollievo e che mantenne sempre l'esercizio, anche in mezzo alle più gravi occupazioni, prodigo di soccorsi materiali a molti e svariati istituti di beneficenza fondati o promossi da lui e ad una vera folla di indigenti di ogni gradazione e di ogni provenienza che gli si raccoglievano intorno. Di entrambi si ammira lo spirito di carità di cui erano infiammati e che li spronava alle opere di misericordia, in special modo a prendersi cura dei malati. Come il buon Romeo aveva preso molto presto l'abitudine di visitare, servire, consolare e soccorrere gli infermi, così il Baronio, sin dai primi tempi del suo soggiorno in Roma, quotidianamente visitava gli ospedali facendosi tutto a tutti i dolori e con le rendite di un beneficio di cui era investito fondò un nosocomio a Sora, sua città natale. Tanto più risalta la loro generosa liberalità se rapportata alla scelta di tenere uno stile di vita di basso profilo, lontano anni luce dal lusso e dalla giatezza che la loro posizione avrebbe tranquillamente consentito. Del buon Romeo si legge nei Promessi Sposi che volle una tavola piuttosto povera che frugale e che fu così scarso e sottile misuratore a se stesso che badava di non smettere un vestito prima che fosse logoro affatto, confermando nei fatti e non solo per modo di dire che le rendite ecclesiastiche sono patrimonio dei poveri, non credendo che a lui ricchissimo fosse lecito vivere di quel patrimonio. Quanto ai costumi ascetici del Cardinal Baronio, Don Angelo lo dipinge «contento per sé di ciò che gli era strettamente necessario alla vita, di un solo materasso su cui dormiva, delle sole vesti che gli vennero donate dal Papa nella sua promozione al Cardinalato, di cibi molto ordinari, mentre le sue entrate di Cardinale, non piccole certo per quei tempi, vennero erogate nelle opere della beneficenza sotto tutte le forme di allora». Ma è tempo di lasciare il ritratto del Cardinal Baronio dopo la sosta necessariamente prolungata sui suoi risvolti manzoniani e gettare nuovamente le reti nel mare degli scritti pubblici e privati di Roncalli alla ricerca di altre citazioni dei promessi sposi. Non sarà peraltro fatica sprecata perché la sua dimestichezza col romanzo fu tale da garantire in partenza una pesca davvero abbondante e di ogni specie. All'inizio del 1908, ad esempio, paragona i modernisti alla mula di Don Abbondio. Pochi mesi prima, l'8 settembre 1907, come si sa, Pio X aveva diramato l'enciclica Pasciendi Dominici Gregis, condannando senza appello il modernismo come sintesi di tutte le eresie. Nel solco di quella condanna Don Angelo scrisse in questi termini a Monsignor Bugarini, non senza una punta di ironia, «Non li capisco questi modernisti? Sono peggiori della mula di Don Abbondio. C'è una via così larga su cui camminare tanto bene e senza fastidi. Essi devono ad ogni costo cercare i margini e i precipizi». Roncalli alludeva alla celebre umoristica descrizione dell'accidentata discesa del povero curato dal castellaccio dell'innominato al fondo valle, di cui al capitolo ventiquattresimo dei Promessi Sposi. Dove la strada era su un rialto, su un ciglione, la mula, secondo l'uso dei pari suoi, pareva che facesse per dispetto a tenere sempre dalla parte di fuori e a mettere proprio le zampe sull'orlo. E Don Abbondio vedeva sotto di sé, quasi a perpendicolo, un salto o, come pensava lui, un precipizio. Anche tu, diceva tra sé alla bestia, hai quel maledetto gusto ad andare a cercare i pericoli quando c'è tanto sentiero. Vedete, rielaborate, sono le stesse parole, oltre che le stesse immagini. I personaggi dei Promessi Sposi si prestano poi magnificamente a stigmatizzare in maniera quasi proverbiale alcuni caratteri e difetti umani riscontrati in alcune delle innumerevoli persone con cui Monsignor Roncalli è venuto in contatto. A proposito di una pittrice veggente di Bruxelles, che lo aveva affaticato molto, annota nella sua agenda, bisogna essere cortesi con queste anime affette dalla malattia di Donna Prassede, ma guai a lasciarsi sorprendere. In cosa consistesse quella malattia Manzoni aveva magistralmente spiegato, con la consueta ironia, nel capitolo venticinquesimo del romanzo, presentando la vecchia nobildonna molto inclinata a far del bene, con poche idee nella testa e per disgrazia quasi sempre storte, zelantissima nel suo irrefrenabile proposito di secondare i voleri del cielo, salvo prender per cielo il suo cervello. L'incontro con André Marie, guarda sigilli della Repubblica Francese a Palazzo Vendôme, il primo febbraio 1949, di intonazione tutta politica, gli ricorda invece quel capolavoro di insinuazioni, di malignità e di velate minacce, che è il colloquio del conte zio col padre provinciale, narrato da Manzoni nel capitolo diciannovesimo del romanzo. Ma la frase che in assoluto ricorre più volte nelle agende di Monsignor Roncalli è quella ripetuta da Ferrer al cocchiere nel capitolo tredicesimo dei Promessi Sposi, mentre sta portando in salvo il vicario di provvisione dalla folla dei rivoltosi che volevano linciarlo. Adelante presto con Juizio. Monsignor Roncalli, uomo di governo in seno alla Chiesa, chiamato a responsabilità sempre più alte e impegnative, l'assume quasi a principio d'azione, a massima prudenziale, per trovare ogni volta un punto di equilibrio tra il desiderio e anche la necessità di risolvere questioni ingarbugliate e prendere provvedimenti e la stima preventiva degli effetti, non ignorando le complicazioni del mondo e i labirinti dell'animo umano. Soprattutto negli anni del suo patriarcato a Venezia il monito a se stesso è costante. Davanti a certi tornanti critici e calamitosi della storia, che si abbattono alla cieca sulle singole persone come su intere popolazioni, Roncalli corre col pensiero ai capitoli della peste. La notizia che aveva gettato nell'angoscia i cugini Giovanni e Candida dell'affondamento della nave su cui era imbarcato il loro figlio Beppino durante il secondo conflitto mondiale, gli richiama le parole dette da padre Cristoforo a Renzo sulla sorte incerta di Lucia. Cerca la confiducia e con rassegnazione, perché ricordati che non è poco ciò che tu sei venuto a cercare qui, tu chiedi una persona viva al lazzaretto, va preparato a fare un sacrifizio. La lettera che Monsignor Roncalli scrive ai cugini nella circostanza sviluppa gli stessi identici motivi consolatori. Conviene che ci prepariamo a una notizia definitiva, che potrebbe essere di grande gioia nel figlio ritrovato sano e salvo dopo molte peripezie, o che potrebbe essere di immensa pena. Ma su ogni umana preoccupazione prevale, alla fine, l'abbandono fiducioso da parte di Roncalli al Signore che tutto vede e tutto provvede. Ed ecco allora i frequenti rinvii, con citazioni puntuali, all'ultima pagina dei Promessi Sposi, dove Manzoni riassume il sugo di tutta la storia. I guai vengono bensì spesso perché ci si è dato cagione, ma la condotta più cauta e innocente non basta a tenerli lontani e quando vengono, per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. Quanto conforto, quanto incoraggiamento per noi in queste belle parole, postilla scrivendo alla Signora Guidi e al Vescovo di Bergamo, nella lettera che gli invia da Bujukada proprio l'8 settembre 1943, sperando e pregando che tutti i popoli siano presto liberati dalla grande afflizione, aggiunge questo auspicio. Almeno ci riesca con la pazienza e con la serenità non turbata, seppure tentata, che le circostanze richiedono ottenere che le sofferenze presenti e future ci tornino utili, come conchiudeva il buon Manzoni, per la vita migliore. Ovviamente sarebbe del tutto fuori luogo cercare nelle citazioni manzoniane di Roncalli delle interpretazioni originali, men che meno dei contributi critici, tali da lasciare un segno nella storia della fortuna del grande scrittore Lombardo. Roncalli è stato semplicemente un lettore di Manzoni e per giunta un chierico lettore che non ha mai disgiunto il piacere estetico dal nutrimento spirituale. Questo spiega la predilezione per i promessi sposi come il sostanziale disinteresse per il Manzoni drammaturgo, storiografo, filosofo e linguista. Tuttavia la sua fruizione dell'opera manzoniana include, se non altro, anche la produzione lirica e apologetica, accostate con lo stesso sguardo del bello morale. Ma non c'è tempo ora per parlare anche di questo, chi vorrà potrà leggere quel che ho scritto in proposito nell'ultimo fascicolo degli annali della Fondazione Papa Giovanni XXIII. Grazie.